700 visite mediche e ritrate all'INEL di Teramo, 6 mesi di ritardo nella liquidazione dei bonus Covid ai disoccupati da parte dell'INPS di Teramo. Sono solo due dei tanti esempi di grave disagio che stanno vivendo i cittadini teramani a causa della mancanza di personale in questi due enti. A denunciare il problema scendono in campo CGL e CISL e Will. Per i sindacati la cronica carenza di personale, in generale negli uffici pubblici della provincia di Teramo, sta diventando sempre più causa di inaccettabili ritardi nella soddisfazione dei diritti di centinaia di persone che non ricevono così il giusto e dovuto sostegno sociale. All'INEL di Teramo sostengono unitariamente le sigle sindacali, al personale medico carente e indisponibile si sommano i ritardi accumulati durante la pandemia. Una situazione che costringe ad attesa inaccettabili donne e uomini che a causa della propria attività lavorativa hanno contratto malattie e devono vedersi riconosciuto il giusto risarcimento. Stesso discorso all'INPS. Le misure straordinarie ed urgenti legate al Covid in molti casi non vengono ancora liquidate. In particolare sono in attesa decine e decine di lavoratrici e lavoratori precari o disoccupati, a cui dopo più di sei mesi non sono stati ancora versati gli importi di cui hanno diritto. Per non parlare poi degli ex dipendenti pubblici in attesa della liquidazione del TFR o del pagamento delle casse integrazioni. Il conto è presto fatto. All'INPS di Teramo in pochi anni, dal 2018 al 2021, si è passati da 164 dipendenti agli attuali 120. Situazione molto simile anche all'INAIL e in molte altre strutture della pubblica amministrazione teramana. Cigelle e Cislewil si appellano così alle istituzioni del territorio nell'affiancare le direzioni provinciali di INAIL e INPS di Teramo nella richiesta di maggior personale. Adesso più che mai chiosano i sindacati, nessuno deve essere lasciato indietro e vanno garantiti i diritti sociali a tutti e nei tempi giusti.